I comuni rappresentano sicuramente un elemento centrale del nostro vivere comune, del nostro vivere insieme. La scelta di ispirarsi anche alla Pira indica esattamente questa direzione, cioè l'idea che le ACLI sono nate nei piccoli comuni, nei grandi comuni, nei comuni medi che affollano la nostra Italia e in questi comuni noi ci assumiamo delle responsabilità. Vorremmo recuperare un dialogo con gli amministratori perché in questo momento rappresentano un elemento importante e credibile della politica. Oggi noi abbiamo dei partiti molto leggeri, a volte troppo leggeri e invece recuperare una dimensione comunale di amministrazione dove si fanno cose concrete ci sembra una dimensione molto ecclista e importante per riuscire a far dialogare la società con le istituzioni. Abbiamo così organizzato questi tre giorni che ci permettono di aprirci a un mondo che per noi è sempre stato, voglio dire, un mondo nel quale siamo vissuti ma non abbiamo mai formalizzato un rapporto così, il tentativo di fare un dialogo così preciso con gli amministratori. Ci sono molti amministratori ACListi o che si riconoscono nei valori delle ACLI. è una scuola che è un esperimento che cercheremo di ripetere anche nei prossimi anni, magari ampliandolo anche stando su temi di concretezza, su temi che ci possano permettere di fare una riflessione contestualizzata e che permettono a questi nostri consiglieri comunali, assessori, sindaci di essere più competenti. Il governo è un'arte, è difficile, siamo a Firenze dove il livello artistico è molto elevato e dove il livello artistico si è occupato anche della politica e quindi ci sembra importante recuperare una dimensione quasi artistica del potere che non è un fatto estetico ma è un fatto, come dire, legato alla difficoltà di costruire un modo di governare consensuale insieme ai cittadini ma attento anche ai problemi.